La società di raccolta dei rifiuti Alba di Battipaglia lavora in regime di proroga a tempi più lunghi della durata del contratto allungato, quello del 2017, che alla fine, proroga dopo proroga, è stato spalmato su 15 mesi, da gennaio 2018 a marzo 2019. Nelle more di poter operare le opportune valutazioni agli esiti delle due diligenze e del connesso piano di risanamento, si autorizza il dirigente del settore tecnico a rilasciare un ulteriore provvedimento di proroga, lo deliberano la sindaca Cecilia Francesi e i suoi assessori, che autorizza il dirigente tecnico Carmine Salerno affinché proceda all'ennesima dilazione per un periodo di tre mesi. Un trimestre dunque la proroga concessa dovrebbe scadere il 31 marzo prossimo. Grazie a tutti.